Buongiorno, siamo nella fermata di Martinsicuro, una storia che conosciamo bene perché è partita durante la giunta regionale guidata dal Presidente D'Alfonso, purtroppo poi le vicissitudini che tutti conosciamo in quanto la sessione regionale è terminata e è iniziata avanti e è continuata e questo motivo che ci troviamo qui è perché passata l'orario invernale del 13 dicembre scorso, oggi con l'orario estivo dal 13 giugno non è cambiato nulla, nel senso che un impianto bellissimo, a norma, soprattutto anche per la questione della salita e discesa dei disabili, ma manca l'elemento principale, mancano i treni. A dicembre eravamo stati in silenzio anche perché ci eravamo accorti subito della situazione, ma siccome c'era stata l'inaugurazione non volevamo rovinare questo gioiellino, che il sottoscritto insieme a tanti amici di Martinsicuro fu creato un comitato ad hoc per la questione della fermata, però dobbiamo registrare, come ho detto prima, che non ci sono i treni. A differenza degli altri impianti che vada la direttrice Giulianova San Benedetto, tipo Albadriadica, Tortoreto e altre stazioni, fermano la bellezza di 37 treni. Per non parlare poi della direttrice Giulianova Pescara, che ne fermano oltre 60, ma lì c'è l'interconnessione con Terra. 8 treni che fermano a Martinsicuro non svolge la funzione per cui è nata questa situazione, né sociale né del pendularismo dei ragazzi studenti e lavoratori, ma soprattutto quello per cui era nata la fermata di Martinsicuro, quella turistica. 8 treni. Se io vengo da Tortoreto, da Giulianova o da San Benedetto, vengo a Martinsicuro, rischio di rimanere per 4-5 ore senza nessuna possibilità poi di ritornare a casa e questo è l'elemento principale. Ripeto, avevamo atteso dopo l'orario invernale di intervenire. Adesso, il 13 giugno, poi è cambiato l'orario, questo miglioramento non c'è stato. Io registro anche una serie di rame intere da parte di Ciserini che ne iscrivo perché il nostro comitato era nato per la fermata di Martinsicuro. Poi, in maniera anche grezza, feroce e anche poco delicata, istituzionalmente qualcuno ha ritenuto che noi, come giunta ad Alfonso, non avesse fatto nulla. Io ricordo perfettamente l'incontro con l'amministratore delegato gentile, ci sono atti ufficiali, ci sono delibere, quindi queste cose le capiamo perfettamente, si cambia l'amministrazione e lascia il tempo che trova. Comunque l'importante che l'opera è stata realizzata. A me sembra di ricordare un po' quello che era il ramo secco della Terravo-Giulianova. Incrementando il numero dei treni, oggi la tratta Terravo-Giulianova-Pescara chiede quella che aumenta di più il traffico del pendolarismo sulla regione Abruzzo. Voglio aggiungere l'ultima cosa, che nella tratta Pescara-San Beretto non ferma un treno della Sangritana, della tua, ma addirittura, visto che il trasporto pubblico locale è di competenza regionale, si poteva anche studiare una novità, quella della Terravo-Giulianova, verso Nord, verso San Beretto, perché sono molti i terramani che vengono al mare, a Tortoreto, dal Basiadica a Martinsicuro stesso. Quindi nulla si è fatto, perciò io come coordinatore provinciale invito l'amico Dante Chichi che è coordinatore qui a Martinsicuro a fare anche un'azione nei confronti dell'amministrazione comunale. L'invito che facciamo al sindaco dall'alto del suo ruolo è quello di attivarsi con tutti gli organi regionali affinché Martinsicuro la stazione possa finalmente essere adeguata a tutte le esigenze del nostro paese e dell'intera valvitrale. Io credo che Italia Viva su questo avrà una posizione da qui incalzante anche per il futuro, è un peccato aver speso tanti soldi però poi effettivamente non c'è quello che manca principalmente cioè chi deve soffrire del treno. Io credo che l'abbiamo fatto questa mattina in un incontro qui con un atteggiamento propositivo senza contestare nulla perché ce lo buttiamo dietro le spalle. Io faccio una raccomandazione anche a quel comitato di cui conosco benissimo e anche loro di attivarsi perché non è stato raggiunto l'obiettivo, abbiamo raggiunto a metà. Grazie.